E' tutto pronto per il grande rugby che sbarca finalmente all'Aquila e quella di domani sarà una giornata di ricordare per la città. Le zebbre che arrivano nel nido dell'Aquila e lo storico impianto del Tommaso Fattori sarà il palcoscenico del match di Pro 14 tra le zebbre e i callesi del Newport Grand Dragons. Una notizia che scuote l'Aquila e che porta il grande rugby ma sarà soprattutto una festa della città con il terzo tempo e un villaggio per tutto il viale dello stadio Fattori. Nella franchigia delle zebbre che nella prima parte di stagione ha collezionato tanti successi in Pro 14 militano tanti nazionali convocati dal CT Conor Rocea. L'attenzione sarà soprattutto per i due abruzzesi, l'ala marzicana 1990 Giovanni Battista Venditti, 43 caps con l'ital rugby e il mediano di Mischi Aquilano Riccardo Raffaele classe 1996. La gara sarà preceduta da quella dell'Aquila Rugby, una giornata veramente di grande sport dall'Aquila che la città attendeva da tempo e del resto la ricostruzione, la rinascita passa e deve passare anche attraverso lo sport. Ci troviamo qua all'Aquila, questa partita che è in programma tra le zebbre e i dragons del Pro 14 è una partita importantissima sia per le finalità del campionato delle zebbre ma soprattutto perché si svolge una sede diversa da quella solita che è la sede naturale, la città di Parma. Si svolge all'Aquila una città storica per il rugby, una città che ha il rugby nel sangue e quindi è importante per il comitato regionale della Federazione Italiana Rugby è anche un modo per riportare al centro del tema, dell'attenzione di tutti coloro che si interessano di rugby come il territorio non vada messo in secondo piano perché il valore del territorio è quello che dà il valore poi anche per l'alto livello.